Sabato 14, orario continuato, invito a Palazzo il Credem espone i suoi tanti capolavori con una esposizione questa volta, quest'anno, del tutto eccezionale. Di cosa si tratta esattamente? Quest'anno la banca ha deciso di aprire ancora di più le porte della sua collezione mostrando un dipinto che di solito è conservato in spazi non accessibili al pubblico che è questo capolavoro di Giacomo Balla intitolato Velmare. È un dipinto del 1919, vedete che l'opera ha dei colori molto eleganti e con questo dipinto Balla vuole raffigurare l'energia che sprigiona dalle onde del mare e come le onde del mare si uniscono alle vele, per cui è un insieme di grande energia e anche nel colore vedete questi toni sul verde, sull'azzurro e rosa delle vele. È un insieme molto elegante, di grande raffinatezza e appunto abbiamo pensato che fosse un buon momento per mostrare questo dipinto anche perché siamo vicinissimi al suo compleanno di un secolo perché l'opera è del 1919. E' eccezionalmente esposta perché non è mai stata prima esposta? Per quali motivi? Allora, il dipinto è stato in realtà esposto a un'importantissima mostra di Balla Milano a Palazzo Reale, però non è mai stato esposto in occasione di invito a Palazzo proprio perché è conservato in una zona che non è accessibile al pubblico, per questo motivo non è stato mai mostrato in questa occasione. L'opera tra l'altro fa parte di un nucleo di pittura del Novecento che la banca possiede e che è conservato appunto in zone non accessibili e per questo abbiamo deciso di mostrarlo. Naturalmente non c'è solo il Balla, ci sono tanti altri capolavori. Certo, certo, anche perché appunto già il palazzo in sé è un capolavoro perché è un palazzo del Cinquecento che è stato poi progressivamente abbellito dalle famiglie che hanno abitato appunto la dimora storica dal Seicento fino alla fine dell'Ottocento sostanzialmente quindi le famiglie Guicciardi e Spalletti-Trivelli hanno reso questo palazzo così fastoso come lo vediamo oggi e appunto per volontà della banca dall'inizio, dalla metà degli anni Settanta, si sono formate due collezioni molto importanti la prima è una collezione di dipinti antichi di scuola emiliana che rappresentano la pittura emiliana dall'inizio del Cinquecento fino alla fine del Settecento la seconda è una collezione di arte orientale tra le più rare in Italia che è stata acquisita appunto per dimostrare come ci siano due grandi culture quella europea, quella orientale che comunicavano già dall'antichità, pensiamo alla via della seta quindi comunque la banca ha fatto questa decisione nelle acquisizioni per cui il palazzo è aperto, le collezioni saranno tutte visibili e in più ci sarà questo capolavoro esposto eccezionalmente grazie grazie grazie